Il 2017 è stato un anno molto importante dal punto di vista elettorale. Dopo la vittoria di Trump, sul finire del 2016, si è temuta anche per l'Europa l'avanzata delle forze populiste. A respingere per primo quest'attacco è stata l'Olanda, in cui le forze liberali di Root hanno sconfitto il partito islamofobo ed anti-UE, capitanato da Wilders. Ma la vittoria non è stata netta. Il Partito per la Libertà si è consagrato come secondo nella corsa elettorale, lasciando in molti il timore di un nuovo slancio per i movimenti anti-europeisti. In Francia è arrivata però la seconda sconfitta, quella più dura per i populismi europei. Il front nazionale, con il suo fondatore strizzato l'occhio ai movimenti nazifascisti del Novecento, ha subito una sconfitta veramente bruciante. Marine Le Pen è stata distrutta al secondo turno dal candidato di En Marche, Macron, che ha anche conquistato la maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale. In questo quadro si inseriscono le elezioni del 24 settembre, in Germania. Qui le forze populiste non avranno spazio per concorrere, visto che si prospetta una corsa a due Merkel-Schultz, quella cancelliera uscente data per favorita da quasi tutti gli analisti. Proprio di questo si discuterà all'evento Covatis Germania, programmi, prospettive e priorità per elezioni federali. Interverranno tra gli altri l'ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania, il vicepresidente del Senato. Potrete trovarne il giorno stesso un ampio reportage sul blog della Fondazione Enni. Grazie per la visione!